Lo yoga sciamanico è lo yoga più primitivo e selvaggio e ovviamente si riferisce alla fusione tra lo yoga e lo sciamanismo. Questa fusione è avvenuta in tempi antichi ma avviene ancora oggi. Pensiamo per esempio a yogin assai lontani nel tempo tra loro come il grande Milarepa o il guru del famoso Sri Aurobindo, Vishnu Paschalele. Entrambi sono stati yogin e sciamani allo stesso tempo. Il mio incontro con lo yoga sciamanico risale a diversi anni fa, ormai più di 30, perché io giovanissima sono andata in Sri Lanka e lì in questa meravigliosa isola ho conosciuto il mio primo grande maestro che poi è stato Michael Williams che era un grande esperto di yoga e anche di sciamanismo e a dispetto del suo nome inglese lui era un Tamil ed è stato lui a iniziarmi a questo grande mondo, a questa grande tradizione. Io oggi porto il suo nome proprio per una questione di lignaggio, di eredità di lignaggio e infatti Michael ha lasciato il corpo diversi anni fa e io per diversi anni non ho mai sentito di dover portare il suo nome anche se il lignaggio lo prescriveva, poi un bel giorno ho capito che dovevo farlo, ho capito che lui era dentro di me e che questo piccolo gesto portare il suo nome avrebbe significato tanto per me e così io ho incominciato a farlo. Per comprendere che cos'è lo yoga sciamanico dovremmo dovremmo capire innanzitutto che cos'è uno sciamano. Uno sciamano è semplicemente qualcuno che è molto vicino alla natura e che cos'è la natura? La natura non è un oggetto materiale, la natura è simbolo e per dirla con il poeta lo sciamano è la kittà è la valle del fare anima, la natura è bellezza, è poesia, è volontà di darsi è amore, la natura è amore quindi lo sciamano che è qualcuno che è estremamente vicino alla natura è qualcuno che pensa attraverso il cuore lo sciamano usa il pensiero del cuore e grazie al pensiero del cuore egli percepisce l'invisibile percepisce gli spiriti per lui tutto è il due in uno il ginepro è lo spirito del ginepro la betulla è lo spirito della betulla il lupo è lo spirito del lupo tu è il tuo spirito tutto è il due in uno per lo sciamano il visibile e l'invisibile permanentemente uniti e allora lo yoga sciamanico diventa un'esperienza meravigliosa di relazione con l'invisibile per esempio anche nello yoga sciamanico si fanno le asana le posture ma vengono chiamate sequenze fluide sono posture in movimento e alla fine sono come una danza una danza meravigliosa con la quale si danza con il proprio daimon il proprio spirito guida e con l'aspetto invisibile di tutti gli eventi della nostra vita attraverso le posture fluide dello yoga sciamanico puoi danzare con i tuoi piedi e con lo spirito dei tuoi piedi puoi danzare con il tuo bambino interiore puoi danzare con il tuo spirito guida danzi con gli spiriti anche quando fai gli esercizi di controllo del respiro c'è qualcuno dall'altra parte lo yoga sciamanico è un cammino meraviglioso perché è un cammino che non si fa da soli è il cammino della scoperta dell'essere in due distinti ma non separati in una sorta di grande matrimonio mistico, cosmico che dà una grande gioia e una grande felicità perché in questo matrimonio vi è il ricordo profondo dell'essere amati grazie grazie grazie